La moto spezzata in due vicino il casco, i pezzi della due ruote sparsi sulla carreggiata. Il centauro è volato per una ventina di metri finendo sulla pista ciclabile. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Gli operatori del suo M118 hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte. Trasportato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. La vittima è Saimir Reginica, 40 anni, residente a San Biagio di Callalta, l'ennesima tragedia della strada. È accaduto in via Duca d'Aosta, a Mignagola di Carbonera. L'auto, una Fiat appunto guidata da una ventenne dipendente della De Longhi, stava viaggiando in direzione Olmi quando ha svoltato a sinistra per parcheggiare l'auto proprio poco distante la sua azienda. In quel momento dalla direzione opposta è arrivata la moto. L'impatto devastante. Dopo lo schianto, la due ruote, ormai a terra, è scivolata nell'altra corsia appoggiandosi ad un furgone. Io ho solo visto l'incidente davanti a me, ho frenato e la moto che si è lentamente avvicinata al furgone, tutto qua. Ho visto proprio questo incidente, è stata una questione di attimi. Il ragazzo ha volato fino in fondo lì? Io non l'ho visto, ho solo visto una volta che era a terra. Sotto shock sia la ventenne che è uscita dall'abitacolo in Leisa, che il giovane alla guida del furgone, che si è visto arrivare la moto contro. Sì, è stato un bel botto. Saimir lavorava presso l'azienda Atena Carbonera. La sua passione erano le moto. Era partito da San Biagio per andare a lavorare. Così come la ventenne. Anche lei doveva iniziare il suo turno presso la De Longhi. Come ogni giorno stava cercando di parcheggiare, ha svoltato a sinistra proprio quando è arrivata la due ruote. Un attimo si è consumata la tragedia. La procura di Treviso aprirà un'inchiesta. La giovane sarà indagata per omicidio stradale. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi.